Thomas Mann, lo smacco La vita si serve talvolta dai mezzi più singolari per dimostrare le verità più semplici ed elementari, disse Anselmo in un'ora di felice ispirazione. Quando conobbi Dunia Stegman, avevo vent'anni, ma ero così sprovveduto da sembrare un allocco. Impegnato come ero a rompermi le corna seguendo una smania febbrile, non avrei mai immaginato come sarebbe andata a finire questa vicenda. I miei desideri non conoscevano freni, senza scrupolo alcuno mi adoperavo a soddisfarli. Questa curiosa licenziogità nel condurre la mia vita la combinavo però in modo assai svagato a un quel certo idealismo che mi spingeva a cercare un rapporto di intimità con le donne, ma in maniera casta e assolutamente spirituale. Tornando alla Stegman, lei era nata a Mosca da genitori tedeschi, era cresciuta là, nei pressi, o da qualche altra parte in Russia. Forte della conoscenza di tre lingue, il russo, il francese e il tedesco, era venuta in Germania per fare l'istitutrice. Essendo però ben dotata di istinto artistico, aveva trascurato dopo un po' questo lavoro, per vivere come intrattenitrice, piena di spirito e velleità, Dandosi alla filosofia e ai salotti, e impreziosendo con i propri contributi musical-letterari un giornale di secondo o terzo ordine. Aveva trent'anni quando la incontrai proprio nel giorno del mio arrivo a B. Era lì, nella table d'hotte ad una pensioncina scarsamente frequentata. Una donna di taglia forte, con il seno ai fianchi piatti, gli occhi di un gardognolo chiaro, incapace di un'espressione intrigante, un naso esageratamente sporgente e una capigliatura ad un biondo insignificante, per giunta priva della minima cura. Il suo vestito marrone scuro era semplicissimo, senza ornamenti né civetteria. Assomigliava alle sue mani. Posso dire di non aver mai visto in una donna una bruttezza così inequivocabilmente nitida. Davanti a un Rosbiff si capitò di parlare di Wagner e in particolare del Tristano. La libertà del suo spirito mi sorprese. La sua emancipazione era spontanea, senza esagerazioni o affettazioni. E la viveva in modo sereno, con sicurezza e naturalezza, come mai avrei ritenuto possibile. Mi sconvolse l'obiettivo disincanto con cui lasciò cadere nel mezzo del nostro discorso l'espressione disincarnato ardore. Quelle parole si adattavano a meraviglia al suo sguardo, ai suoi movimenti, a quel modo cameratesco con il quale posavo la mano sulle mie braccia. La nostra discussione fu vivace, ma profonda. Rimanemmo a tavola molto tempo, dopo che gli ultimi quattro o cinque ospiti avevano lasciato la sala. Ci vedemmo nuovamente dopo cena. Suonammo un po', insieme sul pianoforte scordato della pensione, e continuammo a scambiarci pareri e impressioni, fino a capirci vicendevolmente in tutto. Trovavo un gran senso di piacere. Davanti a me avevo una donna con un cervello costruito perfettamente come quello di un uomo. Le sue parole erano in tutto al servizio delle cose, senza un orpello, mentre la mancanza di pregiudizi ci permetteva una radicale sincerità nel confrontare esperienze, sensazioni, umori, insomma, proprio quel tipo di discorsi che allora erano la mia passione. Così un mio antico sogno si avverava. Avere un amico in gonnella. Un amico la cui sublime disinvoltura non lasciasse affiorare in me alcun turbamento. Al suo cospetto potevo sentirmi piacevolmente sicuro di essere coinvolto solo nello spirito, visto che l'attrattiva fisica esercitata da quell'essere tutto cervello era uguale a quella di una scopa. Sì, la sicurezza che provavo in questo rapporto cresceva nella stessa misura in cui ciò che di carnale c'era a Indunia arrivava sempre più alla dimensione del disgusto fisico. Ma intanto divenivano più forti anche i nostri legami spirituali. Era un trionfo dello spirito, un trionfo così luminoso come mai avrai potuto prevedere. Eppure, a quale pienezza fosse giunta la nostra amicizia, lo dimostra il fatto che continuammo a vederci nelle nostre abitazioni dopo aver lasciato la pensione. C'era spesso però qualcosa fra noi, un qualcosa che doveva essere estraneo al sublime rigore del nostro particolarissimo rapporto, e si sviluppava proprio mentre le nostre anime si svelavano l'una all'altra nei loro segreti più casti e riposti e i nostri spiriti lavoravano alla soluzione dei loro dilemmi più sottili. Fu in una di quelle occasioni che il lei, col quale ci rivolgevamo l'uno all'altra, cedette il passo ad un innocentissimo tu, un lampo di malizia riempì l'aria, contaminandola e togliendomi il fiato. Ma lei non sembrò neppure accoggersene. Era così aperta e superiore, ma io invece me ne avvidi, soffrendone un po' dentro di me. E una sera, mentre eravamo seduti, conversando su temi psicologici, l'atmosfera divenne ancora più delicata. Era stata Dunia a sedermi si vicino. Sulla tavola era rimasto solo il vino rosso, cui continuavamo a fare onore. La situazione nel complesso era assai poco elegante, ma in tutto adeguata al nostro rapporto. Entrambi fumavamo, ma Dunia sedeva accanto al tavolo, mentre io, col viso rivolto nella sua stessa direzione, stavo mezzo disteso in una chaise longue. Il nostro dialogo era penetrante, analitico, a cuore aperto, e in quel momento si soffermava sulle condizioni spirituali che provocavano la passione amorosa nell'uomo e nella donna. Non ero tranquillo, non mi sentivo sincero, e probabilmente ero particolarmente eccitabile, dato che avevo bevuto troppo. E poi c'era un qualcosa, quel lampo di malizia che riempiva l'aria, contaminandola in una maniera che mi era sempre più insopportabile. Mi prese un bisogno irrefrenabile di spalancare una finestra per liberarmi da quell'imprevisto fastidio una volta per tutte, scacciandolo via, magari con una parola sola, ma brutale. Quello che decisi di dirle non era poi più gravoso o schietto di molte altre discussioni, e poi era ormai ora di farla finita. Mio Dio, per il modo in cui stavo rispettando le buone regole della cortesia, avrebbe almeno provato un po' di riconoscenza. Ascolta, vedessi mentre sollevavo il ginocchio per accavallare le gambe, è una cosa che ho sempre fatto finta non esistesse. Ma tu lo sai, invece, cos'è che dà al nostro rapporto questo tocco di originalità e di estrema finezza? È l'intima familiarità dei nostri spiriti, che ora mi è divenuta indispensabile, e che pure contrasta con la schietta avversione che fisicamente provo nei tuoi confronti. Già, aggiunse lei dopo un attimo di silenzio, veramente curioso. Accantonata a questa parentesi iniziale, la nostra discussione sull'amore riprese. Trasse un forte respiro. La finestra era aperta. La premessa era fissata. Chiara, inequivocabile e sicura, come doveva star bene del resto anche a lei. Continuammo a fumare e a parlare. C'è una cosa, sai, una cosa sola, mi disse improvvisamente, che deve finalmente venire fuori. Non ti ho mai detto che ho avuto per davvero una relazione, una volta. Voltai il viso verso di lei, fissandola in ebetito. Sedeva lì accanto, tutta tranquilla, con la sigaretta nella mano che faceva su e giù sopra il tavolo. Le sue labbra si erano appena socchiuse. I suoi occhi verdogno li fissavano impercettibilmente di fronte a sé. Esclamai, tu, voi, una storia platonica, ma no, una relazione vera e propria. Dove, quando, con chi? È stato a Francoforte, qualche anno fa, con un impiegato di banca, un uomo ancora giovane e molto bello. Sentivo il bisogno di dirtelo una buona volta. Sono contenta che ora tu lo sappia, o forse sono calata nella tua stima. Mi si è a ridere, stiracchiandomi mentre tamburellavo con le dita sulla parete. Forse, le dissi con grossolana ironia, non la guardavo più, ma tenevo gli occhi fissi verso la parete e mi guardavo le dita. In un sol colpo, l'atmosfera prima castigatissima, si era talmente intorbidita che il sangue mi saliva alle tempie e mi oscurava gli occhi. Quella donna si era fatta amare, il suo corpo era stato stretto da un uomo. Senza voltare il viso, spogliai quel corpo a furia di fantasia e vi trovai un'incontenibile attrattiva. In silenzio mi versai l'ennesimo bicchiere di vino. Quanti ne avevo bevuti? Sì, ripeté a mezza voce, sono contenta che tu ora lo sappia. Il tono inequivocabilmente solenne con cui pronunciò quelle parole fece sì che provassi un brivido sordido. Lei era lì, sola, assieme a me in quella stanza, a mezzanotte. Era ferma e immobile come in attesa di offrirsi. I miei istinti più bassi erano in subbuglio. Mi sussultava il cuore solo all'idea del piacere che avrai potuto ricavare nel concedermi un diabolico quanto indecente svago con quella donna. Vediamo un po', dissi con tono severo. mi sembra estremamente interessante e ti è piaciuto con quell'impiegato? Ma certo, risposerei e proseguì senza osservarla. Avresti qualcosa in contrario a rifare una cosa del genere? Assolutamente no. Mi sollevai con un brusco sussulto puntando le mani sul divano e le chiesi con la spavalderia del mio incontenibile desiderio. E come sarebbe fra noi? lentamente voltò il viso verso di me guardandomi con amichevole stupore. Oh, mio caro, ma come vi viene in mente? No, il nostro rapporto lo sapete è di natura troppo spirituale. Ma sì, certo, ma quella è una cosa a sé stante a parte la nostra amicizia non che io la voglia rovinare certo, però forse potremmo intenderci pure in un altro senso ma no, non ha neppure il caso di dirlo rispose sempre più stupita e mise a gridare con la disperazione dell'eremita che non è disposto a farsi scappare l'ultimo dei grilli. Perché no? Perché ti neghi? E feci la mossa di passare alle vie di fatto. L'unia Stegeman si rizzò in piedi controllatevi disse siete completamente fuori di voi conosco le vostre debolezze ma ciò è indegno di voi vi ho detto di no perché la nostra reciproca simpatia è di natura assolutamente spirituale riuscite a capirlo? è meglio che ora vada si è fatto tardi mi riscossi mi tornò anche un po' di discernimento che smacco dissi ridendo spero ora che non vada compromessa la nostra amicizia e perché dovrebbe mi rispose stringendomi la mano di nuovo con fare cameratesco mentre un sorrisetto ironico affiorava su quella bocca malfatta subito dopo se ne andò e io rimasi in mezzo alla stanza con lo sguardo appannato a rimpiangere quella meravigliosa avventura dopo aver fatto scorrere nella mia mente tutte le fantasticherie possibili mi diede un colpetto sulla fronte per farla finita quindi me ne andai a letto grazie a tutti Grazie a tutti